Ciao a tutti dal Salvatore, eccomi con Simone Guidi, il più bello d'Italia, finalista. Vero, vero. Ecco, puoi fare un saluto speciale a tutti i tuoi fans che sono venuti. Mi saluto solo ai miei amici, ai miei fans e a tutti quelli che mi seguono. Ciao. Ciao a tutti. E ricordiamo le tue pagine su internet quali sono? Guidi Simone e Guidi Simone. Ok, ti ringrazio. Ciao. Ciao.